Sicuro, come ogni modello del suo marchio, grazie anche a dispositivi come il sistema anticollisione, spaggialini e sinuosi e motori performanti, il nuovo crossover di casa Volvo, la XC60. Volvo completa la gamma XC e affianca ai modelli 70 e 90 la nuova elegante XC60, una crossover con un alto livello di sicurezza e dalle spiccate doti ecologiche. Nella parte inferiore, gli inconfondibili e potenti muscoli della XC si tendono per dare forma ad un corpo tonico ed atletico, caratterizzato da una notevole altezza da terra e ruote larghe. Nella parte superiore, le linee filanti richiamano il carisma sportivo di una coupé. Anche all'interno, la nuova XC60 mostra un carattere deciso, la comodità è garantita per tutti gli occupanti, grazie ai nuovi sedili. L'ormai tipica console centrale ha una nuova linea, con uno schermo integrato dal design tutto nuovo, è leggermente inclinata verso il conducente. Il tetto panoramico in vetro stratificato è un invito a godere di spazio e luce. XC60 è oggi disponibile con motore benzina turbo 6 cilindri da 285 cavalli e due turbodiesel 5 cilindri da 163 e 185 cavalli. Nel corso del 2009 verrà proposta sulla mercato una versione a traccione anteriore con motore diesel da 2,4 litri e 175 cavalli, con un obiettivo di emissioni CO2 ridotte a 170 grammi per chilometro. Su XC60 sono previste di serie le quattro ruote motrici con instant traction, per garantire la migliore tenuta di strada in qualsiasi situazione. Come nella tradizione del marchio svedese, la sicurezza, attiva e passiva, è uno degli assi portanti dell'offerta Volvo e la XC60 non è certo da meno. A partire da un prezzo di listino di poco più di 30.000 euro, i clienti avranno a disposizione tanti sistemi per la tenuta di strada e la protezione dei passeggeri a botto, come il City Safety, l'esclusiva tecnologia studiata al fine di evitare, grazie al potenziamento della frenata, le collisioni a bassa velocità, nel traffico cittadino e quando si marcia in coda.